E oggi è davvero una giornata bella, bella per tutta Napoli, per questo quartiere, ma io penso per tutto il Paese, ma è soprattutto la vittoria degli abitanti delle vele, del comitato che oggi Omero ha rappresentato con le sue parole, Lorenzo, agli altri che stanno dietro, ma anche io voglio dedicare questa giornata a Vittorio Passeggio, che incontrai con un megafono all'inizio della mia prima campagna elettorale, nella primavera del 2011, e rappresentava l'indignazione, la rabbia, l'umanità e il senso di impegno civico di chi era stato collocato per anni in un luogo in cui il destino sembrava segnato. Io credo che, non so quanti possono capire che significa rimanere a vivere in queste case mantenendo la dignità, mantenendo l'umanità e mantenendo anche l'onestà. Quando la narrazione mondiale ti vuole far vivere nell'equazione vela è uguale comorra, vela è uguale camorra. Noi sappiamo perfettamente che la camorra c'è a Napoli, c'è a Scampia come sta negli altri quartieri, come le mafie ci sono in tutta Italia, ma io credo che bisogna ringraziare queste persone che, lasciate nel degrado per tanti anni, hanno lottato per la giustizia, per i diritti e per una Napoli migliore. Io sono davvero orgoglioso e come amministrazione siamo giunti fino a qui, non è stato facile, voglio ringraziare in tanti l'Agenzia della coesione che è oggi presente, ASIA che ha fatto un lavoro enorme, la di costruzioni dell'impresa che con grande passione sta lavorando, il fatto che abbiamo voluto mantenere l'impegno delle clausole sociali perché a Napoli il lavoro è un diritto ancora non per tutti e quindi questi cantieri devono significare anche lavoro e contrasto alla disoccupazione. Questo è un impegno che l'amministrazione ha preso cercando di non lasciare mai indietro nessuno. Sappiamo che è difficile, oggi non è un traguardo, però è un momento importante, guardate, non è un momento come un altro. Qui c'è tanta lotta, c'è tanto impegno, c'è tanto lavoro insieme. Io solo credo di aver fatto non meno di 60-70 incontri con queste signore e con questi signori. La democrazia partecipativa significa metterci la faccia, quando c'è la contestazione e quando c'è la gioia, quando c'è il conflitto e quando c'è la festa, quando ti criticano e quando ti applaudono. Io sono fatto così, noi siamo fatti così e voglio ringraziare tutta l'amministrazione, Omero, Lorenzo, lo sapete, se stiamo qui non è merito di una persona, è merito di una squadra e quando questa città è unita non è seconda a nessuno. Quindi oggi dedichiamo tutti quanti insieme a voi questa vittoria che non avete mai mollato e a Vittorio nella speranza di poterla avere di nuovo insieme a noi con quel megafono in mano. Grazie, grazie a voi, grazie.